Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, resta chiuso fino alle 20, il tratto compreso tra Pian del Voglio e Aglio per lavori in direzione sud. Entrata consigliata verso Firenze, uscita consigliata provenendo da Bologna, Badia, su variante di Valco. E arriviamo in Fipilì, per lavori restano code di un chilometro tra Montelupo e Ginestra nei due sensi di marcia. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12 della Val di Pesa. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Il treno 23532 Pisa Centrale di Firenze-Santa Maria Novella è partito con 53 minuti di ritardo a seguito del danneggiamento di una vettura del treno per atto vandalico e successivi interventi delle forze dell'ordine e della manutenzione. I viaggiatori diretti a Ponte d'Era, Empoli, La Strassigna e Firenze-Rifredi sono indirizzati sul treno a seguito 3114 Livorno-Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!